Bentornati amici, oggi siamo qui per fare un esercizio molto molto semplice con questo software di cui ho già parlato in diversi video precedenti che vi linkerò in descrizione. Oggi andiamo a vedere come inserire il martello di Thor all'interno di una scena preimpostata. Prima cosa che andiamo a fare, cominciamo subito col creare un nuovo documento. Questo è un documento che viene creato di default. Ora la prima cosa che io voglio andare a fare è selezionare una foto. Io per comodità selezionerò questa foto del deserto che è una foto che viene preimpostata all'interno di questo software, quindi ha già una griglia impostata. Lo faccio solamente per comodità, potete scegliere una scena di vostro gradimento. Ora la prossima cosa che andiamo a fare è che andiamo a importare una risorsa, per cui andiamo a fare Importa e Modello 3D. Ora si dà il caso che questo software non sia in grado di creare delle forme 3D particolarmente complesse. Per questo motivo ho deciso di scaricare una risorsa da internet, una risorsa già pronta per il tutorial che avevo in mente per voi. Si tratta di un oggetto con estensione .obj, cioè Object, ed è un oggetto 3D a tutti gli effetti, generato con un software più complesso di questo. Andiamo a importarlo e vediamo che cosa succede. Ok, ci rendiamo subito conto che abbiamo importato qualcosa di ben più complesso di quello che pensavo, perché qui come potete vedere è vero che c'è un martello di Thor, ma c'è anche tutta una parte di roccia su cui questo martello sta appoggiato. Io non la voglio questa parte, per cui vado ad aprire la cartella e vado a scoprire che cosa c'è al suo interno. Vado a scoprire, per esempio, andiamo ad accendere e spegnere alcuni pezzi, ci rendiamo conto che qui abbiamo due parti, che sono chiamate Plane 001 e Plane e Basta, che sono nel nostro terreno. Io queste parti non le voglio, per cui le vado a cancellare, le seleziono e le cancello. A questo punto sono in grado di gestire solamente il martello. Cominciamo col premere il tasto R. Il tasto R attiva lo strumento di rotazione. Io in questo momento vado a ruotare il mio martello, perché è capovolto, io lo voglio con la parte pesante verso il basso. Torniamo col tasto V allo strumento sposta. A questo punto porto il mio martello sopra la superficie della sabbia. A questo punto io voglio ingrandire un pochino il mio martello, per cui vado a utilizzare lo strumento Scala, che si richiama col tasto S. Tengo premuto Shift in modo da mantenere le proporzioni e vado a ingrandire il mio martello di una certa porzione. Adesso torno allo strumento sposta, vado a dissotterrare il mio martello, ma non completamente. Lo lascio un pochino inclinato e un pochino sommerso dalla sabbia. In questa maniera, se io lo andassi a sollevare, vedete che sarebbe fuori dalla sabbia e rimane anche una simulazione della sua ombra. Ma se io lo vado a immergere, ho una guida calamitata che mi dice quando sono a contatto col terreno e posso anche andare a immergerlo nella sabbia, come se fosse lievemente sprofondato. Torniamo allo strumento rotazione, vediamo come lo possiamo mettere, in maniera tale che lo vediamo bene. Una cosa del genere potrebbe andare. Ok, in questo modo noi abbiamo già collocato il nostro oggetto 3D all'interno del nostro spazio tridimensionale che è stato generato automaticamente basandosi sostanzialmente sulla prospettiva presente nella nostra foto. Quindi è una prospettiva simulata che si avvicina quanto più possibile alla realtà. Ovviamente se questa prospettiva non ci andasse bene, noi possiamo muovere il nostro oggetto in maniera tale da sistemarlo esattamente come vogliamo. Ma in questo caso diciamo che questo, essendo un oggetto semplice, a me va benissimo così. In questo momento una cosa che possiamo andare a fare ulteriore è che possiamo andare a prendere i vari pezzi del martello e possiamo abbinargli dei materiali. Ora qui, questa è una cosa che mi hanno chiesto in tanti, non esiste una regola vera e proprio per abbinare un materiale. Diciamo che questi sono i materiali di default che sono presenti all'interno del software già dal momento in cui lo scarichiamo. È possibile installarne molti altri. Però il punto qual è? Questi sono dei materiali che quindi di base daranno un certo risultato, ma non è detto che siano quelli che vogliamo utilizzare, perché poi dipende anche dalla resa che hanno a seconda della luce e del tipo di scena che vogliamo ottenere. Per questo motivo io adesso proverò dei materiali e andremo a vedere quale può essere il più adatto. Tipo questo qui che era più scuro, poteva sembrare migliore, però come potete vedere presenta delle righine che non mi piacciono in questo caso, quindi rimango su una cosa del genere. E abbiamo fatto il primo pezzo. A questo punto possiamo andare a selezionare un altro pezzo. Questo che pezzo è? Qui bisogna cercare di capire a cosa corrispondono i vari pezzi. Io in questo momento questo pezzo non riesco neanche a vederlo, quindi non gli abbino niente. Può essere che sia una parte che sta dall'altra parte del martello, quindi in questo momento non è visibile. Andiamo a procedere e vediamo... Ok, vediamo che qui abbiamo l'anello che congiunge l'impugnatura al martello vero e proprio. Adesso io faccio degli esperimenti, però mi dovete credere, io non mi ricordo assolutamente come è fatto veramente il martello di torno, nel senso che non mi ricordo che colori ha. Quindi adesso vado ad abbinare delle cose che secondo me stanno bene. Facciamo degli esperimenti, cerchiamo di capire quali sono i colori dei materiali che possono andare meglio per un oggetto di questo tipo. Ovviamente, come vi dicevo, si tratta di sperimentare, perché io non ho una garanzia che abbinando il materiale reale la resa sia esattamente quella che voglio io. Tipo, ci sono dei metalli che sono troppo luminescenti oppure delle pietre che sono troppo scure e quindi andrò di volta in volta a selezionare un altro materiale a seconda proprio di come si comporta visivamente. Come vedete io li sto provando per cercare di capire qual è quello che ha la resa migliore sulla parte che sto trattando. In particolare l'impugnatura credo che non sarà per niente facile perché non ce n'è quasi nessuno che mi sta dando l'effetto che voglio. Dovrò andare a cercare di capire se vale la pena utilizzare uno di questi materiali oppure se è il caso di andarmene a cercare degli altri. In questo momento credo che questo potrebbe essere il migliore. Mi dà un effetto che è abbastanza vicino a quello che vorrei. Non è proprio proprio quello che vorrei, però quantomeno si avvicina. Nel momento in cui non abbiamo all'interno di questa library i materiali che ci servono possiamo andare a scaricarli da siti web come per esempio Adobe Stock che è la piattaforma dedicata di Adobe dove ci sono risorse a pagamento. C'è anche qualche risorsa gratuita ma è molto difficile trovarle soprattutto per un software come questo dove insomma le risorse sono abbastanza difficili da realizzare. È ancora un contesto abbastanza professionale quindi non è facile trovare delle risorse gratuite. Ecco, questo materiale per esempio per l'impugnatura non mi dispiace per cui torniamo indietro e andiamo a procedere. Qui avevo usato questo se ricordo bene per cui cerco di essere coerente perlomeno nei materiali che utilizzo quindi se utilizzo un materiale per una parte cerco di utilizzarla l'ho utilizzata per l'anello in basso cerco di utilizzarla anche per il pomolo dell'impugnatura e per ultimo andiamo a vedere qui cosa possiamo mettergli questo era rosso adesso ho veramente un vuoto vi assicuro che non mi ricordo di che colore era però mi sembra di ricordare una cosa del genere. Ora una cosa ulteriore che possiamo fare possiamo selezionare invece del nostro martello possiamo andare a selezionare la luce dell'ambiente e qui possiamo divertirci a cambiarne l'intensità quindi possiamo rendere il nostro martello molto luminoso oppure molto scuro questo dipende puramente dal tipo di immagine che abbiamo scelto di posizionare dietro possiamo anche ruotare la luce perché nel caso il software non avesse capito da dove proviene la luce principale all'interno della nostra scena possiamo andare a dirglielo noi ora in questo caso io direi che il sole è alle spalle del nostro martello quindi credo una cosa del genere sarebbe sbagliata perché qui la luce viene da davanti noi invece la vogliamo da dietro ecco una cosa del genere dovrebbe essere più accurata ok questa qui è la nostra scena questo qui è il nostro martello 3d che abbiamo piazzato all'interno della nostra scena a questo punto ovviamente noi possiamo ancora muoverlo possiamo ruotarlo come più ci piace possiamo lasciarlo mezzo sommerso dalla sabbia oppure possiamo tirarlo fuori diciamo che vogliamo tirarlo fuori giusto un pochino ecco solo che così non si vede che è immerso nella sabbia per cui adesso io vado a ruotarlo di nuovo ok così si dovrebbe vedere che è immerso però no 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 non sono soddisfatto non sono soddisfatto andiamo a spostarlo un po' ok andiamo a posizionarlo in questo modo e qui sta lievemente sommerso dalla sabbia dopodiché lo possiamo posizionare a questo punto in realtà noi siamo pronti a renderizzare la nostra scena una volta che la scena viene renderizzata verrà estratta questa foto che sarà editabile all'interno di photoshop con tutti i livelli ok supponiamo di aver raggiunto un risultato che ci soddisfi anche solo vagamente posto che poi se fosse un lavoro vero dovremmo passarci più tempo dedicare più tempo a ogni singolo materiale al posizionamento ora un paio di cose ulteriori che vi voglio far vedere sono innanzitutto una cosa che ho scordato di fare prima colpevolmente non abbiamo selezionato il tipo di luce perché nel momento in cui noi gli andiamo a dire luce ambientale vedete che il tipo di luce che viene assegnata automaticamente è questa questa qui è la luce di uno studio noi non vogliamo questo tipo di luce bensì vogliamo la luce del sole per cui io vado a cliccare luce solare e vedete che improvvisamente viene generata un'ombra che adesso sì che è quella che vogliamo a questo punto noi abbiamo tutti i parametri di cui io avevo già parlato abbiamo l'intensità abbiamo la rotazione a questo punto sì che possiamo decidere da che parte viene il nostro sole e io ho deciso che il sole viene da quella direzione perché mi sembra di capire dal colore delle nuvole che questa sia la direzione corretta per il sole posso decidere anche l'altezza lo voglio abbastanza alto quindi l'ombra potrebbe essere una cosa di questo tipo e lo voglio un po' nuvoloso quindi vado a diminuire la percezione di quest'ombra andiamo a vedere se possiamo lavorare un pochino sull'intensità una cosa del genere mi soddisfa abbastanza a questo punto c'è un'altra cosa che vi voglio far vedere ovvero probabilmente vi starete domandando per quale motivo io dovrei voler piazzare una risorsa 3d che non ho creato io una risorsa 3d che ho scaricato da internet all'interno di un'immagine che non mi rappresenta perché è un'immagine che era già presente all'interno del software ebbene adesso andiamo a scegliere una foto che piace a noi da inserire all'interno della nostra grafica per fare questo andiamo su file importa e immagine come sfondo per questo esempio ho scelto questa immagine che è sostanzialmente una foto delle vacanze vedete che viene posizionata automaticamente all'interno del quadro adesso quello che noi andiamo a fare è che avendo selezionato il nostro ambiente gli andiamo a dire match e gli andiamo a dire ok come vedete il software ci ha pensato e ha stabilito che questo è il nuovo posizionamento del nostro oggetto tridimensionale come potete vedere ci ha azzeccato nel senso che l'ombra va a matchare le ombre già presenti nella scena per cui devo dire che è abbastanza accurato andiamo a vedere che cosa è successo al nostro ambiente qui come potete vedere è stata generata un'immagine tridimensionale finta ovviamente è un 3d simulato di quello che è il nostro ambiente all'interno del quale è stato calato il nostro oggetto adesso io siccome sono pignolo voglio andare a gestire la luce personalmente per cui vado a gestire innanzitutto la rotazione e me lo faccio da solo questo giochino qui qua devo stare attento perché qui come potete vedere c'è un ostacolo per cui la mia ombra non potrà andare oltre l'ostacolo quindi dovrò stare attento a non farla finire in questo modo perché altrimenti si capisce l'inganno se io invece la tengo posizionata in questo punto dovrebbe essere abbastanza credibile posto ovviamente che stiamo parlando di un oggetto dalle dimensioni impossibili attualmente quindi dopo andremo a ridimensionarlo un pochino ma per il momento quello che ci interessa è andare a matchare le caratteristiche della luce per cui quello che andiamo a fare è selezioniamo l'altezza a cui vogliamo il sole selezioniamo la rotazione in questo caso vogliamo che la rotazione sia questa andiamo a selezionare l'intensità l'intensità la vogliamo alta adesso andiamo a giocare con l'altezza fino a quando non siamo soddisfatti una cosa del genere dovrebbe andare bene ok dovremmo essere abbastanza a posto per quanto riguarda la nostra luce dovremmo aver matchato con successo quella che è la luce all'interno della nostra scena ora ovviamente il nostro martello è un po' grande per cui vado a prendere lo strumento scala e vado a scalare il mio oggetto avendo cura di tenere sempre premuto shift in maniera tale da bloccare le proporzioni una volta che raggiungo una dimensione che mi sembra appropriata vado a riprendere il mio strumento sposta a questo punto collo col mio martello a contatto col terreno ma non lo faccio più sprofondare perché se prima avevamo un pavimento di sabbia qui abbiamo un pavimento di pietra quindi a questo punto non sarebbe più credibile parimenti voglio anche ruotarlo in posizione in maniera tale che sia assolutamente a livello del terreno perché in questo caso non è più credibile che vada a essere storto a questo punto il mio oggetto è abbastanza realisticamente collocato all'interno dell'ambiente a questo punto io lo posso ruotare in maniera tale da cercare di averne una visuale migliore posso piazzarlo in un punto dove mi piaccia e sostanzialmente il nostro render potrebbe essere terminato ora questo qui è un render di esempio quindi vi rendete conto da soli che non è l'immagine della vita non è un'immagine spettacolare ciò nonostante è un ottimo esempio di come è possibile introdurre degli oggetti tridimensionali all'interno di una foto anche di una foto che abbiamo realizzato noi quindi questa è la perfetta integrazione di questo software con immagini reali di nostra produzione ora noi potremmo effettivamente fermarci qui ma come sapete ci piacciono le sfide per cui andiamo ad aggiungere un passaggio andiamo nelle forme basic che abbiamo a disposizione e scegliamo il cilindro andiamo subito ad assegnargli un materiale perché spesso assegnare un materiale ci aiuta a vedere meglio quello che stiamo facendo tipo questo materiale potrebbe andare benissimo proviamone un paio giusto per avere un'idea di come può rendere uno di questi due andrà assolutamente bene adesso andiamo a posizionarlo più o meno nel mezzo una cosa del genere adesso andiamo a prendere lo strumento scala io quello che voglio fare è abbassarlo perfetto una cosa del genere a questo punto avete già capito che cosa ho intenzione di fare a questo punto io posso prendere il mio martello e vado a posizionarlo sopra a questo altare che ho realizzato apposta per lui in questo caso devo stare attento perché essendo questo un oggetto che è sollevato non sono sicuro che le guide calamitate funzionino esattamente a dovere però ecco qui questo è il risultato finale a questo punto la cosa interessante è che noi possiamo fare due cose ci sono due sviluppi possibili una volta terminata una lavorazione di questo tipo il primo sviluppo è quello dell'export per cui io potrei andare su export e scena in questo modo vedete che ho la possibilità di esportare un obj quindi ho la possibilità di esportare le parti 3d in maniera tale che possano andare a essere aperte da un altro software oppure sempre dallo stesso software però mantenendo la maggior parte delle impostazioni che ho assegnato io durante questa sessione quindi si parla anche dei materiali non è questo che mi interessa però in questo momento quello che mi interessa è farvi vedere come si renderizza per cui se ci avete fatto caso siamo sulla tab design qui in alto a sinistra possiamo vedere che siamo sulla parte design noi andiamo sulla parte render a questo punto e qui possiamo andare a scegliere se local o cloud cloud è in beta nella mia versione quindi io rimango strettamente su local chiamiamo il nostro file tor così lo capiamo qualità ora qui abbiamo le impostazioni della qualità dovete sapere che questi render sono molto ma molto ma molto lenti per cui io vi consiglio di usare la qualità alta solamente se è un progetto veramente molto importante ai fini di questa dimostrazione io userò la qualità alta per farvi vedere quello che siamo in grado di estrarre ovviamente dipende da quello che stiamo andando a fare perché è veramente lento nel senso che ci può mettere veramente minuti a esportare questo frame quindi vi sconsiglio di usare sempre qualità alta soprattutto se sono delle bozze come potete vedere stiamo andando a esportare in formato psd a 16 bit quindi stiamo esportando in qualità altissima andiamo a iniziare bene andiamo ad aprire il nostro export e andiamo a vedere che cosa abbiamo ottenuto andiamo ad aprirlo con un doppio clic e si lancia automaticamente photoshop ora vedete che il profilo colore incorporato è quello srgb anche se io abitualmente lavoro con un altro profilo in questo caso lascerò il profilo incorporato come potete vedere qui abbiamo la nostra immagine la cosa interessante è che noi abbiamo un livello base che è bianco quindi abbiamo il nostro sfondo bianco dopodiché abbiamo la nostra foto l'immagine che avevo selezionato come sfondo per l'intero nostro progetto abbiamo il render quindi abbiamo il martello con l'altare esattamente come li abbiamo creati dopodiché abbiamo dei livelli addizionali che ci permettono di andare a fare delle regolazioni quindi per esempio abbiamo una selezione dei materiali in questo caso vediamo che ogni materiale viene abbinato a un colore diverso questo ci viene molto utile se vogliamo andare a fare delle selezioni precise perché per esempio se vogliamo andare a selezionare il basamento non facciamo altro che selezionare il colore del basamento e automaticamente abbiamo una selezione perfetta se vogliamo selezionare un pezzo particolare del martello facciamo la stessa cosa andiamo a selezionare il colore corrispondente e siamo a cavallo abbiamo anche una selezione per oggetti che in questo caso non funziona perché il martello è composto da più pezzi quindi risulta che sia un oggetto composito però possiamo andare di nuovamente a selezionare con precisione il basamento abbiamo anche le informazioni sulla profondità queste vengono molto utili nel caso in cui si volesse andare a realizzare una fotografia 3D non so se vi è mai capitato di vederle le foto 3D sono quelle immagini che si muovono allo scroll quando ci troviamo sulla piattaforma facebook per esempio quelle sono immagini 3D che si basano sulla mappa della profondità esattamente quello che vediamo qui in questo momento ovvero abbiamo il colore bianco che rappresenta le cose che sono a fuoco il colore nero che rappresenta le cose che sono fuori fuoco o comunque le cose che sono più lontane in questa maniera la nostra immagine ha una mappatura di quello che deve essere a fuoco in primo piano e di quello che deve essere sfocato sullo sfondo e questo serve a fare sì che si crei un finto effetto di movimento una sorta di parallasse tra quello che è a fuoco in primo piano e quello che è sfocato sullo sfondo andiamo a chiudere questi livelli e torniamo alla nostra immagine finita come potete vedere abbiamo un'immagine che è stata renderizzata per intero nel momento in cui noi volessimo avere il martello e il basamento separati dobbiamo andare a fare due render separati cosa che ovviamente è possibile fare si fa in due passaggi poi non si fa altro che andare a unire i due pezzi all'interno dell'applicativo di photoshop le ombre andranno a combaciare automaticamente a presto Grazie a tutti.